E' una sfida di fondamentale importanza in chiave salvezza quella che al comunale di Montemarcone mette di fronte i padroni di casa del Piazzano al Raiano. Le due squadre sono infatti relegate nei bassi fondi della classifica e hanno l'impellente necessità di fare risultato per uscire dai vorticosi meandri della griglia play-out ma anche per allontanarsi dall'ultimo gradino assai vicino che nel caso precluderebbe qualsiasi appiglio supplementare. Per i biancorossi di mister Dorazio non si tratta di un buon momento visto che la truppa del presidente Ciriliano è reduce da quattro sconfitte consecutive e l'ultimo successo risale allo scorso 23 dicembre. Non va molto meglio ai rosso-blu di mister Di Corcia che arrivano a loro volta da due sconfitte di fila. L'avvio della squadra di casa e di Bosco in particolare sembra promettente visto che dopo l'iniziale a fondo che lo porta a vincere un rimpallo favorevole e a calciare a lato dalla media distanza arriva anche la rete che porta i suoi a condurre. E' il quattordicesimo infatti quando il numero 7 di casa riconquista un pallone nella propria tre quarti e dopo uno scambio dal limite con Gelicanin penetra in area e lascia partire un preciso diagonale che spedisce la sfera alle spalle di Addario. Si tratta di una gioia effimera e di brevissima durata visto che il vantaggio piazzanese dura lo spazio di un battibaleno. Trascorrono appena 50 secondi e il Raiano acciuffa il pareggio anche se fortuitamente con la sfortunata deviazione di Fonseca che spedisce nella propria porta nel tentativo di intercettare il diagonale dalla destra di Di Tommaso. I biancorossi di casa provano a ripristinare il vantaggio ma il tentativo infruttuoso di Gelicanin che al venticinquesimo sfiora il palo alla sinistra di Addario dopo una lunga sgruppata di Abbonizio rimane l'unico episodio significativo prima del rientro negli spogliatoi e alla ripresa dei giochi è il Raiano a operare il sorpasso anche se le modalità che portano al raddoppio rosso-blu sono oggetto di vivace discussione da parte della squadra di casa che subisce un calcio di rigore attribuito agli ospiti dal signor Ameli di Teramo il quale ravvise il fallo in area di Di Tollo ai danni di Palombizio e lo stesso attaccante raianese ad incaricarsi della battuta che non fallisce. Dall'altra parte la reazione della squadra di casa si limita all'incursione dalla sinistra di Abbonizio che sparacchia sul fondo senza creare grossi patemi alla retroguardia ospite. E' decisamente più esplosiva la replica della compagine rosso-blu che al ventunesimo va ad ipotecare il successo con lo stesso Palombizio il quale firma la sua doppietta domenicale. La realizzazione arriva con un puntuale stacco aereo che va ad intercettare la pennellata da fermo del suo compagno di squadra Campanella e scavalca il malcapitato di Tollo costretto alla terza capitolazione di giornata. I Biancorossi accusano il colpo e rischiano di subire un nuovo rovescio con il tentativo di Saponaro che si libera alla conclusione al ridosso del vertice d'area piccola ma la sfera si alza sul fondo e Di Tollo tira un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Tra i locali il neo entrato Cieri prova ad approfittare dell'errato disimpegno di Mucca ma anche la sua conclusione è troppo alta e non c'entra il bersaglio grosso. Sull'altro fronte Saponaro ci riprova arrivando indisturbato alla conclusione dal vertice sinistro dell'area piazzanese ma ancora una volta la mira non è direttamente proporzionale alla fase propedeutica. L'ultimo acuto significativo della truppa ospite si registra al 28esimo con Sisse che va ad imbastire l'azione dalla propria metà campo e dopo aver scambiato la sfera con Di Tommaso cerca il diagonale in area che va a sfiorare il palo alla destra di Di Tollo. Alla mezz'ora esatta arriva l'ultima reazione infruttuosa della squadra di casa con l'acuto del neo entrato Antichi che spedisce di pochissimo oltre il palo più lontano. Le speranze piazzanesi di rientrare parzialmente in carreggiata si infrangono definitivamente dopo la decisione del direttore di gara che al 38esimo estrae il cartellino rosso all'indirizzo di Capitan Fonseca punito per un fallo di reazione ai danni di Ragusa. Non vi saranno ulteriori emozioni con i tre punti che prendono la strada di Raiano e con una situazione di classifica sempre più difficile per il piazzano chiamato a rialzare la testa prima che sia troppo tardi. Davide Ciriliano scontro importante in tema salvezza, il risultato è a favore degli avversari, oggi cosa non ha funzionato? Non lo so perché la squadra ha giocato molto bene, siamo stati 85 minuti nella loro metà campo solo che non siamo riusciti a segnare un gol più dell'avversario, diciamo che l'arbitraggio su certi aspetti non ci ha aiutato, un ricorre molto dubbio, ci siamo dovuti scoprire, abbiamo preso il terzo gol. Dopo questa sconfitta ha scivolato ancora di più nei piani bassi della classifica, come bisogna comportarsi in questi momenti? Finché la matematica non ci dà torto, noi daremo filo della torcia a tutte le squadre che incontreremo e lotteremo fino alla fine. Mister Di Corcia, tre punti fondamentali per staccarsi dalla zona play-out, un commento tecnico sulla partita? No, come hai detto tu, tre punti importantissimi, sono contento perché finalmente siamo riusciti a fare una vittoria fuori casa, era tutto l'anno che non ci riuscivamo, abbiamo fatto anche la prima in casa domenica scorsa, quindi abbiamo recuperato questi tre punti che erano fondamentali per quanto riguarda la classifica. Crede che il piazzano riesca a salvarsi senza passare per i play-out? Non lo so, io guardo la mia squadra, so che abbiamo un'ottima squadra e cercheremo e faremo di tutto per salvarci il prima possibile. Dirigente Ciriliano, un commento tecnico sulla partita? Guarda, la partita si sapeva che era una partita combattuta, ma ultimamente stiamo ricevendo torti arbitrali a non posso, qua vengono tutti quanti a fare i fenomeni, appena si butta qualcuno in aria, gli danno il rigore, ci espulgono, espellano i giocatori, cioè sono tutti fenomeni che vengono qua a Valdisangro. Per il resto non lo so, non è il caso di parlare perché siamo talmente arrabbiati con la Terna che ultimamente è un continuo, continuo, continuo.